Già mi piacevano le loungi, adesso scannerizzo il menu, scannerizzato il menù mi portano direttamente il cibo A te no, ma non sapevo cosa volevo Faccio pure sta magliettina che è in pigiama, faccio una pennica Sto andato ai riso al curry e pizza alle 11 Mezzogiorno, stavo morto, come diceva a due giorni già E non pensé che camminare dopo mi costaria Me diceva un viejo, mentre sus ojos lloravano, senza querer volare lejos Mientras al cielo mirava, ancora ricordava quando duro lavorava Un derrame in suo cervello non lo de... Sous le cielo de Paris s'envole una chanson El è nè d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon La 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 Grazie a tutti. Siamo una trettina di persone, siamo molto pochi, molto inti, molto molto belli. Poi vi faccio vedere qualcosa di più.